È sintomatico che ci sia qualcuno del PD che non sapeva cos'è l'anarchia, che la citi a caso. L'anarchia è quando si decide di un'animità. E comunque il 5 Stelle, per tutti i limiti che ha, almeno le primarie le fa. E le fa in maniera continuativa e non discontinua.